Othorn crede che Zavala abbia abbandonato lei e i superstiti. E ora stiamo partendo anche noi. Se non partissimo potremmo rimanere ad aiutarli, ma... Se Zavala stesse veramente pianificando una controffensiva su Titano, potremmo salvarli e riprendere la città. Flotta della Vanguardia, parla nave guardiana 723. Abbiamo ricevuto il messaggio e vogliamo unirci alla lotta. Nave guardiana, parla Zavala. È troppo tardi. L'alveare è invaso Titano. Ho sbagliato a radunarci qui. Comandante, siamo qui per aiutare. No, già troppi guardiani senza luce sono stati divorati dall'alveare. Dobbiamo abbandonare questa luna. Ci è tornata la luce. Che cosa? Impossibile. Comandante, se permette. Guardiano, parla alla vice comandante Sloan. Abbiamo un piano, ma per metterlo in atto dobbiamo riattivare l'energia di questa stazione. C'è una flotta da preparare, guardiani da armare e una pila di intercettazioni della legione rossa da decifrare. Dobbiamo ottenere l'accesso al centro di controllo della stazione e ci serve il tuo aiuto. Se hai riacquisito veramente la luce, rispedisci l'alveare all'inferno. Guardiano, ti prego, fai attenzione. A cosa serviva questo posto? Durante l'età dell'oro, le città di Titano erano il fiore all'occhiello dell'umanità. Credevamo fossero abbandonate. Che stolto sono stato a pensare che l'alveare non si fosse infiltrato. Ho davvero un brutto presentimento. Credevamo fossero abbandonate. Credevamo osservare un tucco. Credevamo osservare un tucco. Credevamo osservare un tucco. Servici diverse, Lowry, Qualcunzione ormai. Credevamo osservare un tucco. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti